E tu? Sei mai stato al mare? Vai a frugare tra le tue foto. Io l'ho appena fatto e adesso ti mostro la foto che ho scelto. Questa è l'immagine che ho scelto. Ho scattato questa immagine la scorsa estate, in Salento. Il Salento, infatti, è una zona che si trova nella parte meridionale della Puglia, sul tacco dell'Italia. Questa spiaggia si trova nel paese di Pescoluse, che si trova in provincia di Lecce e si affaccia sul mare Ionio. Questa spiaggia ha un nome molto particolare. Si chiama, infatti, Maldive del Salento. Come mai si chiama proprio così? Beh, perché questa spiaggia è caratterizzata da una costa bassa e con una sabbia bianca e finissima. Ed è famosa per le sue acque particolarmente limpide, anzi, direi quasi trasparenti, grazie al suo fondale basso. Queste caratteristiche la fanno quindi assomigliare alle famose spiagge tropicali. Sai perché ho scelto proprio questa spiaggia? Perché grazie a questo ponte mi sono divertita tantissimo a fare molti tuffi. In questa vacanza ho visto però anche alcune bellissime coste alte rocciose. Questa, per esempio, è la costa che si trova a Santa Maria di Leuca, che è una cittadina molto importante. Essa è situata nel punto più in basso della Puglia. E questo territorio è speciale perché qui si incontrano le acque del mare Ionio e di quello Adriatico. Bene, ora però tocca a te, eh! Aspetto le tue foto! Ciao!